La stagione delle ville venete e in particolare delle ville costruite da Palladio è un momento straordinario nella storia dell'architettura. Ha lasciato un influsso molto duraturo non solo in Italia ma si può dire davvero in tutto il mondo. Le ville palladiane sono state prese a modello per le costruzioni di campagna in una larghissima fascia geografica che dall'Europa si estende anche verso il Nord America. Pensate la Casa Bianca di Washington è in fondo una emanazione del concetto di villa palladiana. Che cosa sono queste ville? Sono i luoghi dove la nobiltà veneziana aveva deciso di investire le proprie risorse. Non più dunque nei traffici marittimi, sempre più difficili e pericolosi, ma in grandi appezzamenti di terreno agricolo che necessitavano di fattorie e di luoghi diciamo di produzione agricola, ma che potevano trasformarsi anche in luoghi piacevoli per passare la villeggiatura, vale a dire quel periodo di, chiamiamola di vacanza, che si svolge non in città ma appunto in campagna. Palladio interpreta alla perfezione questa doppia esigenza, cioè da una parte un centro agricolo produttivo ed economicamente efficace, dall'altra parte un edificio residenziale che potesse accogliere in modo confortevole ma anche celebrativo delle famiglie nobili. Nel caso della villa costruita a Maser, nella alta provincia di Treviso, là proprio sul punto dove finisce la pianura e cominciano le prime colline, Palladio ha l'occasione di confrontarsi con dei committenti molto esigenti, i fratelli Daniele e Marcantonio Barbaro, esperti di architettura e di antichità. E per loro Palladio costruisce una delle sue ville più belle, con queste due ali di portico laterali che servivano per la rimessa degli attrezzi agricoli e con la palazzina centrale in cui l'appartamento si trova al primo piano per chi guarda la facciata ma coincide con il ripiano della prima collina sul retro. L'eccezionale importanza della villa Barbaro realizzata intorno al 1560 consiste nel coinvolgimento per la sua decorazione di due straordinari artisti, lo scultore Alessandro Vittoria che si occupa degli stucchi e degli elementi scultorei e soprattutto Paolo Veronese autore degli affreschi che si trovano all'interno dell'appartamento. È una successione di ambienti luminosi con la piena solarità delle figure di Veronese ma soprattutto sono sale e corridoi in cui Veronese integra l'architettura reale della villa con una architettura illusoria dipinta, creando un connubio tra realtà e fantasia, tra architettura e paesaggio, tra pittura e luce veramente straordinaria. È uno dei casi più riusciti di contatto e di integrazione tra un grande architetto e un grande pittore. Le sale rappresentano un misto di situazioni perché uno dei due committenti, uno dei due fratelli Barbaro era un ecclesiastico per cui ci sono anche delle rappresentazioni di tipo religioso ma prevalgono evocazioni degli dèi dell'antichità e in modo particolare i riferimenti alla natura e cioè alle viti e ai campi coltivati di proprietà della famiglia. Quindi questa celebrazione della ricchezza e del benessere che viene dalla campagna trasferita e tradotta in immagini attraverso dei riferimenti mitologici, ma riferimenti che non sono una esibizione di cultura classica. Sono tutti personaggi carichi di una vitalità espressiva, di un senso di una compiaciuta realtà che davvero coinvolgono i visitatori in una grande avventura festosa.